Grande Ale, ragazzi questi esercizi vanno alla grande, però forse c'è ancora qualcosa di più specifico, qualcosa di un po' più... Però ci vuole Cristiano. Dello swing, esatto Cristiano. Eccolo, Cristiano, grande. Ciao, ciao. Ok, partiamo per lo swing. Sì, swing, swing. Perfetto. Utilizziamo sempre questa, la passiamo, la portiamo circa all'altezza del nostro bacino, ok, mettiamo un po' di tensione e facciamo un esercizio di coordinazione e di separazione, quindi facciamo un leggero squat, rotazione e spinta. Squat, rotazione e spinta. Questo aiuta a migliorare la sequenza corretta, a usare le gambe e non la schiena. Chi lo fa? Ale, al tuo. Quindi squat, rotazione e spinta. Spingi col piede e la gamba anche. Porta avanti. Ottimo. Ok, fantastico. Siamo arrivati a fare lo swing veramente. Perfetto, ragazzi. Ragazzi, rimanete sintonizzati perché Cristiano ne sa tante, quindi ne vedremo delle belle. Per uno swing e uno off-corpo, perfetto.